John Borno ragazzi e benvenuti in quello che è da 0 a 10 il pagellone della 29esima giornata di serie A Prima di cominciare come sempre vi invito ad iscrivervi al canale mi raccomando iscrivetevi Perché magari per voi non è nulla ma per me è molto molto importante che voi vi iscriviate Quindi mi raccomando cliccate iscriviti se volete che questa serie continui Detto questo per sapere la vostra mi raccomando con un commento qua sotto Voglio che vi iscriviate anche a questo canale Voglio che lasciate tantissimo mi piace qui sotto perché oggi c'è tanta 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 ma che ve lo dico a fa' tanta carne al fuoco E quindi noi prepariamoci 3 2 1 e partiamo subito con il pagellone da 0 a 10 della 29esima giornata di serie A Voto 0 ovviamente alla gattuta libera della Roma una caduta ragazzi senza precedenti Perché non è solo una Roma post covid che non ne azzecca una È in generale una Roma che nel 2020 ha fatto pochi pochi punti E quello che preoccupa di più oltre al gol di Lasagna e il raddoppio di Nesto Roschi Oltre alle brutte prestazioni della Roma È proprio la Roma in campo Una Roma che non esiste Una Roma che sembra non capace di riuscire a creare nulla Una Roma che non sapremo dove arriverà ma di questo passo da nessuna parte Voto 1 alla pessima Fiorentina E aiutatemi a dire pessima Perché il presidente ce la sta mettendo tutta per creare una squadra che riesca ad ambire A piazzamenti un po' più importanti E oggettivamente con la Lazio la Fiorentina male non ha fatto Ma il pareggio in casa contro il Brescia E soprattutto la sconfitta di questa settimana contro il Sassuolo Va a ridimensionare una squadra Quella viola che assolutamente doveva fare di più E quindi la sconfitta in casa contro la squadra che gioca a Reggio Emilia Beh, non ci sta assolutamente Voto 2 al tristissimo Brescia Ora, non è che mi aspettassi che il Brescia facesse punti a Milano Assolutamente no Ma sei a zero Mi sembra che il Brescia si sia allargato un pochino Soprattutto se pensiamo che l'Inter gioca con una squadra Ridimensionata dal turnover di Conte Perché? Perché i gol li fanno Young, Sanchez, D'Ambrosio, Gagliardini, Eriksen e Candreva Se andiamo ad esclusione L'unico certo del suo posto, ma nemmeno troppo, è Eriksen Il Brescia invece non gira E adesso la Serie B è sempre più vicina Ultimo posto, 18 punti in 29 partite Voto 3 al Milan che perde altri due punti Siamo sinceri Il Milan ha giocato molto bene e meritava la vittoria La Spal ogni volta che tirava in porta faceva gol Io questo non mi sento di negarlo Però contro la Spal, la penultima in classifica, sono altri due punti persi E ora la Champions, obiettivo comunque impossibile Dista 17 punti La stagione del Milan è quasi finita qua Peccato per loro Voto 4 al secondo tempo del Napoli Secondo tempo del Napoli perché nel primo regge anche botta E rende il match con l'Atalanta un match di altissima intensità Nonostante lo 0-0 finale dei primi 45 minuti Poi però l'Atalanta nel secondo tempo esce correndo il doppio del Napoli E i partenopei spariscono Minuto dopo minuto Come l'avevo detto per il Milan che comunque deve almeno lottare ancora per un piazzamento in Europa Beh il Napoli ormai la stagione l'ha chiusa qui Voto 5 al Torino che non si sa che cosa voglia fare da grande Il Torino come la Fiorentina, stessi punti tra l'altro, rischia la retrocessione Adesso i punti a dividere dalla zona rossa Sono solamente 6 con il Torino che settimana prossima dovrà giocare il derby della Mole Questa settimana la squadra Granata perde ancora Perde con la Lazio e ci sta Va in vantaggio ma non merita realmente mai di poter portare a casa punti E dopo la sconfitta di settimana scorsa con il Cagliari Il Torino sembra essere tornato quello pre-Covid E questa cosa non va assolutamente bene Soprattutto se la squadra Granata da qui alla fine vuole salvarsi Voto 6 alle vittorie di Lazio e Juventus Non voglio dare voti molto molto larghi Perché Lazio e Juventus non fanno prestazioni eccezionali Semplicemente la Juventus fa quello che deve fare Vince 3-1 contro il Genoa grazie ad un secondo tempo fantastico Con tre gol uno più bello dell'altro La Lazio fa più o meno la stessa cosa Vince per 1-2 ribaltando un Torino che immeritatamente era passato in vantaggio E aveva tenuto il vantaggio per tutta la gara Alla fine la Lazio vince, la Juventus vince E lo scontro a Scudetto resta comunque apertissimo Voto 7 allo spettacolo di Parma-Verona Dite la verità, alzi la mano chi si aspettava a queste due squadre Fare uno scontro di altissima intensità valido per l'Europa Il primo, beh a parte il primo luglio nessuno Però a 10 giornate dalla fine Verona e Parma poteva essere uno scontro salvezza E invece no E invece il Verona e il Parma mettono in piedi l'ennesimo scontro Che significa qualità Il Verona vince 3-2 grazie al gol di Pessina Arrivato ad una manciata di minuti dalla fine Una decina Il Verona tallona il Milan Ed è a meno uno dalla zona Europa Voto 8 all'Udinese che espugna l'Olimpico Difficilmente diamo voti alti all'Udinese Perché molto spesso passa in sordina La prestazione della squadra friulana E dopo la sconfitta Immeritata a Torino per 1-0 contro il Torino E dopo la sconfitta In casa per 2-3 contro l'armata bergamasca L'Udinese va ad espugnare lo stadio olimpico Tante colpe dei giallorossi Ma tanti meriti dell'Udinese che alla fine esce da Roma Con 3 punti in saccoccia E con un più 6 sulla zona retrocessione Voto 9 all'Inter che ne fa 6 Ragazzi se una squadra vince 6-0 E addirittura mette in campo I panchinari Beh allora vuol dire che ha fatto veramente tanto bene E questo l'Inter fa perché Conte fa riposare diverse pedine In vista dello scontro forse un po' più difficile In casa contro il Bologna E poi il Tour de Force finale per arrivare in Champions E chissà magari Per sognare uno scudetto che adesso sembra impossibile L'Inter comunque distrugge il Brescia Vince 6-0 E tanti saluti E voto 10 ancora una volta l'Atalanta Che vince anche con il Napoli Se non sbaglio sono 8 vittorie di fila L'Atalanta ha fatto 60 punti in 29 partite Sta tenendo una media straordinaria Ha fatto 82 gol in meno di 30 partite Segna come una macina E continua in un modo o nell'altro A far vedere del gioco fantastico Stavolta fatica di più nel primo tempo Ma nel secondo non c'è gara per nessuno 2-0 E tutti a casa L'Atalanta batte anche il Napoli Stavolta fatica di più nel primo tempo